Il controllo delle operazioni è dove Zilinski deve lavorare di più su Barella che è molto spesso presente in impostazioni con Brozovic che spesso si è allargato rispetto alla partita d'andata. Buona triangolazione tra Eriksen e Brozovic, l'apertura per Candreva, spira nel fianco nella difesa del Napoli, converge Candreva, prova con il sinistro.